Per due mesi hanno dovuto tenere le serrande rigorosamente abbassate, come molte altre attività, nel rispetto delle misure anticontagio. E lo stop imposto dall'emergenza ha finito per pesare fortemente sull'intera categoria, quella di baristi e pasticceri tra i più colpiti dalla crisi economica legata al coronavirus. Ad accendere una debole luce dopo il lungo periodo di buio ci ha pensato la Regione Puglia che con un'ordinanza firmata dal governatore Emiliano ha anticipato anche per loro l'inizio della fase 2, dando il via libera alla vendita da asporto. Una piccola boccata d'ossigeno per molte attività di questo settore rimasti in apnea dall'inizio della pandemia è proprio quando l'arrivo delle festività pasquali avrebbe potuto risollevare gli affari. Abbiamo investito parecchio sulla Pasqua e tant'altro materiale che abbiamo in giacenza. Noi lavoriamo sul fresco naturalmente, metà l'abbiamo buttato, metà l'altra metà l'andiamo a buttare adesso e quindi disagio enorme a livello economico e a livello in tutti i modi. Quindi è una categoria che sta molto soffrendo e sta patendo molto, questa epidemia sta patendo. Quindi speriamo quando prima che tutto si risolve e che andrà bene. A seguito dell'ordinanza regionale, caffè, cornetti, pasticcini e gelati che tanto sono mancati in questi mesi, da ieri sono tornati a disposizione di chiunque li desideri, purché vengano consumati lontano dai locali, né all'interno né all'esterno. Ma se per la clientela può essere considerato un piccolo ritorno alla normalità, per i titolari di queste attività è solo una magra consolazione. Arrivano i primi clienti, le prime chiamate, le prime prenotazioni, quindi stiamo recuperando qualcosa, ma non è che alla fine c'è un gran che, voglio dire, perché la gente ha ancora paura che sta in casa, quindi è un fattore abbastanza sentito questo. Anche noi per fare l'asporto, insomma, in domicilio abbiamo tutte le nostre cautele, perché insomma il pericolo c'è sempre, voglio dire, rimane sempre. Anche in piccola parte queste prenotazioni che arriva, però non è che riusciamo a soddisfare intanto con le spese attuali, perché le utenze, le bollette arrivano ugualmente, è anche pesante, poi non è che ci alleggeriscono qualcosa, e quindi i dipendenti che abbiamo, che non hanno ancora avuto la disoccupazione, quindi stiamo soffrendo tutto, stiamo soffrendo. Quando prima si arrivava a regime, perché già quando stavamo a regime la categoria soffriva parecchio per tutte le spese che noi abbiamo e magari il governo ci abbassasse, ci tagliesse un po' le tasse, perché alla fine la vera... quello che non sopportiamo sono proprio le tasse. L'Italia si è sempre mantenuta sulle piccole e medie imprese. Ci dovete far partire.